Intro Hi people of YouTube Welcome to a new episode of Gli incredibili A parte gli scherzi Benvenuti in questa prima puntata Questa serie sfortunatamente Sostituisce Fallout 4 Se non avete visto il post Purtroppo Fallout 4 ormai E' andato contro un muro Chiamato modding E quindi non si può più toccare Praticamente ogni salvataggio E' andato in corruzione E la serie è andata persa L'ho fatta proprio stretta Quindi ho deciso di portare qualcos'altro Che mi avete richiesto e che soprattutto So che vi piacerà Un altro gioco della PS2 Iniziamo una nuova partita E' di questo che sto parlando Eh lo so Siberius c'hai ragione Questo gioco lo conosco Solo di fama ma non so Non so esattamente nulla Nulla più totale Veramente Non so se sia bello Non so se sia brutto Non so come sono i comandi Rapina in banca Sembra quasi tutta una simulazione Bello Non mi dispiace a livello di grafica Ti dirò Un classico titolo PS2 Della Disney Sì che addominali Neanche nel fincio Li aveva così pompati Capito Non sai cosa fare Va bene Sta attento a dove metti i piedi Ok Però dammi un secondo Due secondi Scusa Natio Posso invertire la telecamera No ti prego Comunque Abbassati Incredi attacco A ferra Attacco leggero E salta Ok credo che il triangolo Sia l'attacco pesante In sostanza Va bene Dovremmo convivere con Con sto scempio di telecamera Però va bene Non importa Hai sbloccato un bonus Fantastico Qua invece che cosa abbiamo Va bene Ok sì Il triangolo È l'attacco pesante In sostanza Col cerchio Afferriamo Come abbiamo detto Però non posso afferrare Tutti gli oggetti Questa è una cura La telecamera No La telecamera La odio però Cioè Non è colpa Non potete scappare Ragazzi Madonna mia Non è colpa Del gioco È colpa mia Che non mi piace Il tipo di telecamera Ok Ma l'incredipugno C'è Ah ok Solo quando ci sono i nemici Va bene Qua Da questa parte Che cosa nascondiamo Nulla Peccato No non è vero In realtà Prendiamo Degli oggetti Ma Aspetta Ho capito Il triangolo Consuma Quelle cariche Sì ma Misteri incredibile Sto fiatone Incredibile Eh No Volevo Volevo lanciarlo giù Dal palazzo Aspetta Altro che Altro che Come si dice Altro che Spider-Man Non uccide i nemici Mister incredibile Fa il cavolo che vuole Con i nemici Giusto Qua non c'è nulla Peccato Speravo ci fosse qualcosa Di nascosto Puff Grazie di avermi aperto la via Sì va bene Ok Era una Sì ma sto fiatone Incredibile Parole ardite Per un semplice Mito Dov'è il tuo capo Bomblatur Bomblatur Allora con calma Con calma Eh Eh cosa ci faccio qui Vedi tu Siete criminali Io sono un supereroe Allora Non è male Non è male Perché non è male Assolutamente Allora Aspetta un attimo Fammi vedere che cosa c'è Ma sto fiatone Veramente terribile È troppo pesante Ah ma c'è ancora gente Aspetta Non ho visto ancora uno No è andato via Va bene Non importa Prendiamoci la cura No siamo pieni Va bene E allora Ecco qua Togliamo questo Leva di mezzo E via Bella madonna Premi e tieni premuto Per farmi un incredi salto Ok ma è tutto scriptato Va bene Quando succede Lo sapremo In pratica Va bene Sì ma quegli addominali Non ce li aveva neanche Nel film Vorrei Vorrei precisarlo Eh Uh Siberio Ma usiamo anche lui No Peccato Va bene Non importa Giusto 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 Ha preso un oggetto Giusto Giusto I supereroi Se distruggono tutta la roba così Proprio quello che mi serve Poi ovviamente I supereroi Esistono perché Esistono i super cattivi Non ci fossero i super cattivi Non ci sarebbe bisogno I supereroi Giusto Io la vedo così Dobbiamo entrare lì Ok Fammi vedere Se qua c'è qualcosa Sto fiatone Però mister incredibile Davvero no Neutralizza quei laser E come li neutralizzo Distruggendo la centralina Ahia Che male Scusami Tra l'altro Non so perché ma Per un attimo Giusto 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 Per un attimo Mi ha ricordato molto Ghostbuster Non so perché Lo tenere premuto Usa la forza Perché Ah ok Puoi sollevare oggetti E lanciarli Se serve Premi questo versante Per afferrare Quello che ti sento Sì Il problema è che Se non lo becchi E ai Mi serve un oggetto Sembra utile Sembra utile Con una lattina Di qualcosa Siamo riusciti a distruggere La centralina Di un laser Ma va bene È giusto così Va bene anche Così Nessuno si può lamentare Di certo Per un attimo Però mi ricorda Ah una bomba Stavo dicendo Mi ricorda anche Stavo dicendo Mi ricorda anche Il gioco Dei Come si chiama Dei griffin Mi ricorda molto Anche quello Allora prendiamo Un oggetto Ecco fatto Non è che devo Infilarlo Da dentro Lanci i tripi Ah ok Aspetta C'hai ragione anche tu Grazie Io volevo lanciargli La libreria Ma va bene Uguale No È un po' lento Come gioco Cioè però È il classico Di questi tipi Di giochi È molto Molto lentino Però non importa Anzi Mi va bene Uguale Arrampicati Bello Arrampicati Puoi saltare in alto Quando sei appeso O spostarti a destra E a sinistra Certo No E via Di sotto Morto Triste Ah 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 Allora Io non posso salire qua Giusto Perfetto No Ecco fatto Di qua non si passa Immagino Ovviamente Non potete scappare Ragazzi E c'è ragione Se ve lo dice lui È sicuramente così Addio a uno Addio all'altro Saliamo di sopra Ecco Venite a me Eh sì Erano anni Avrei fatto una strage L'altro giorno Sicuramente Avete rotto le balle Calmi tutti Cosa ci faccio qui Ecco qua Madonna Santa Quanta gente Ci sarà Un oggetto Per curarsi Non lo so Ma lo troveremo Sicuramente Qui non c'è nessuno Perfetto Via la poltrona Che è Addirittura Scomparsa Buongiorno Eh buongiorno Anche a te Agia Allora aspetta Stavo dicendo Aspetta un secondo Dovresti riuscire A passare Eh c'hai ragione Però No Speravo ci fosse Qualcosa di nascosto Lì Speravo ci fosse Qualcosa Agia che male Ma si dai Non sei così Grasso Su Siamo ancora All'inizio del film Quasi ancora magro Speravo ci fosse Qualcosa di nascosto Là dietro Qua sicuramente Gli dobbiamo lanciare Gli oggetti Agia che male Corri verso La prossima area Sicura Ok Dammi un secondo Allora Ecco qui Una cura Ecco qui L'altra Allora Oh calmo Ecco qui Vai 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 Nasconditi Ta 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 Pa 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 Perfetto Beccati questo Sì ma quanto ci vuole Ci voleva un po' troppo Ehm Chissà dove sta andando Allora No intanto Sì però Sto fiatone Veramente Incredibile Agia La tua carriera criminale È finita Dai Non mi chiamo più Mister incredibile Beh In teoria Ti chiami Bob Quindi Ecco qua Sembra promettente Puff Dai Parole ardite Per un semplice Mimo Parole ardite Per un mimo È vero Se è un mimo Non ti puoi Permettere Di fare Il gradasso No Morti Ecco fatto Ora si Quella è mia Ah siamo pieni Perfetto Ok Preso in pieno Dai Sparatemene altre Beccati questo No Dall'altra parte Incredibile E vive la E vive la France Ecco Fatto Forza Agia Ma dai Ma speravo Non rotolasse Così in avanti Dai su Lanciala Ma dai Ma che mira di merda C'hai Dai Lancia Sta pallina Ma scuva Che palle Lancia Sta palla Forza Non ci prenderai E Se continuate A fare così Sicuramente no Guarda anche lui Continua a fare Le cose di ghiaccio No intanto Se la ride Vabbè Allora Quindi Via Tanto è tutto Scriptata Sta cosa Del salto Quindi Tempo 11 Nemici sconfitti 66 Danni subiti 990 Poi Danni provocati 1415 Energia 425 Incredi Movimenti 12 Calori Perché le calorie Bruciate È un dettaglio Va bene Non ci prenderai No 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 Grazie per la visione!